Serena Anderlini Fool, thou art sapient, buffone, tu sei sapiente, dice King Lear al giurlare di corte che gli ha detto la verità invece di farlo solo divertire. In riso veritas, dicevano i latini, perdono in vino, ma si sa che anche il vino fa ridere. La verità è spesso nella follia, al di là della consapevolezza di chi ride e anche di chi ci fa ridere. L'arte di far ridere è una scienza che ci aiuta ad immaginare i mondi in cui desideriamo vivere. Come si ride oggi? Ma si ride come prima, solo che lo chiamiamo LOL oppure LMAO. La seconda è se ci spaziamo o se il ridere si arriva fino all'inguine. Grazie. Questo è il video di Serena Anderlini che oggi veramente ha dato il massimo. Guarda, la cuore dei due, mi ha divertito di più. Scusate, non la sai, ma io mi sento boomer proprio oggi. C'è, nel senso che per me, ma solo per i filtri che ha usato Serena. 30 punti a Serena Anderlini, la classifica provvisoria, Ressuccia. Oggi è la puntata di Serena, altri 30 punti, va a quota 90. Scusate, Ressuccia.